ciao a tutti da vittorio basta basta non parliamo più almeno fino a che non ci saranno novità della vicenda allenatore della Lazio Igor Tudor è tornato in Croazia Lotito sembra che stia facendo campagna elettorale nel Molise e Fabiani si sta andando al calcio mercato segnale particolare in quanto fai calcio mercato quando ancora non sei convinto di chi sarà il tuo allenatore la prossima stagione o forse evidentemente il segnale che sei convinto che andrai avanti con Igor Tudor convinto o meno la Lazio si sta muovendo nel calcio mercato e dico meno male perché ripeto la Lazio e ho fatto un video a inizio settimana non ha tantissimo tempo per regalare a nuovo allenatore diciamo Igor Tudor una rosa completa bisogna sbrigarsi perché il sogno di qualsiasi allenatore è avere la rosa completa all'inizio del ritiro che sarà confermato ad Oronzo e i giorni scorsi nonostante la querelle Tudor Fabiani siano fatti vari nomi si era parlato anche di Dia il centravanti della Salernitana accostato alla Lazio ormai da tempo Dia ve lo ricorderete no lo scorso anno ha fatto molto bene la Salernitana quest'anno è finito fuori rosa non voleva giocare voleva recessione insomma tanti problemi la Lazio quest'estate è approvato a inserirlo diciamo così nel pacchetto che con la Salernitana per portare Dia e Ciaona alla Lazio ma Dia era restio perché non voleva venire la Lazio a fare il terzo centravanti visto che in rosa la Lazio ancora Ciremobile e Tadi Castellanos nei giorni scorsi dalla Francia sono ribalsate voci di un accordo fra Dia la Lazio sembrerebbe che in realtà non ci sono novità a riguardo questo perché Dia sostanzialmente sarebbe fermo sulla propria posizione lui non vuole fare il terzo vorrebbe venire la Lazio ma da titolare soprattutto con meno competizione per cui al momento il discorso Dia è archiviato è sempre lì eventualmente si può ritirare fuori ma al momento la Lazio guarda su differenti profili e qui apro una piccola parentesi questi profili sono stati avallati da Igor Tutor o è Fabiani che indipendentemente sta cercando di fare il mercato per rafforzare la rosa perché ovviamente è questa riflessione da fare nel senso che ci sono alcuni giocatori che vanno bene per qualsiasi formazione a disposizione ci sono altri invece magari nel 4-3 si esaltano e invece nel 3 nella difesa di Tutor nel 3-4-2-1 di Tutor si perdono per cui sono cose che uno pensa e chissà probabilmente ci pensa anche alla Lazio piace e la Lazio ha avuto già un colloquio con Samet Basdar spero di averlo pronunciato bene centravanti ventenne e questa è una cosa che mi piace moltissimo del Partisan Belgrado giocatore che quest'anno ha fatto molto bene è vero è vero ha giocato nel campionato serbo e quindi ovviamente non è la Premier League eccetera parliamo un giocatore di vent'anni che ha attirato attenzione di vari club sembra che la Lazio ha tra virgolette una corsia preferenziale perché il direttore sportivo del club del Partisan Belgrado è un ex calciatore che ha avuto Fabiani nel Messina e quindi la Lazio avrebbe già inghiaggiato il club in Partisan Belgrado per provare a portare a casa il giocatore la valutazione secondo Petulain 7-8 milioni più bonus la Lazio è molto interessata e quindi potrebbe affondare il colpo nei prossimi giorni sappiamo che Tudor ha chiesto Noslin l'attaccante del Verona come eventuale sostituto per Ciro Immobile o Tadi Castelliano solo come terzo centravanti il Verona però chiede tanti soldi per Noslin e questo ha fatto sì che la Lazio sia più propensa a prendere Basdar che Noslin poi vedremo, dipende anche da quello che succederà sul mercato come sappiamo anzi dovrebbe essere imminente la cessione di Luis Alberto e la Lazio cerca ovviamente un sostituto più che un sostituto secondo me dovrebbero arrivare due trequartisti visto che è andato via anche Felipe Anderson ma secondo Petulain la Lazio ha messo gli occhi su Kelvin Stengs classe 1998 del Feyenoord la Lazio avrebbe provato a prendere questo giocatore anche questo gennaio la valutazione di 11-12 milioni di euro adesso la Lazio sembrerebbe che avrebbe accelerato per provare a chiudere per il calciatore la notizia è che ieri a Formello dopo quindi l'incontro con Tudor ci sia stato un incontro sia per Basdar che per Stengs per provare a chiudere il prima possibile ovviamente se la Lazio riuscisse a vendere Luis Alberto per 15 milioni di euro che è la cifra che la Lazio chiede per lo spagnolo beh 11 verrebbero utilizzati per prendere il sostituto dal Feyenoord e quindi la Lazio chiuderebbe anche con 4 milioni di utile ricordiamo che però il 30% dell'incasso di Luis Alberto va girato a Liverpool ecco due notizie di mercato in entrata almeno due notizie che la Lazio si sta muovendo non si sa ancora chi sarà l'allenatore però almeno la Lazio si muove dal punto di vista del calciomercato io ripeto soprattutto Basdar è un giocatore che mi piace giovane, forte e potrebbe essere una sorpresa positiva nella Lazio che cerca di ringiovanirsi senza perdere di qualità e tu che ne dici di questi due acquisti? scrivono al menti qua sotto e mi raccomando se ti è piaciuto questo video metti mi piace grazie ragazzi grazie